Parliamo da anni dell'Albenga Carcare-Predosa, che di fatto sarebbe il raddoppio della rotossata dei fiori, che ci permetterebbe di intersecare il traffico torinese del nord Europa insieme a quello che arriva dalla Volta di Alessandria che da Predosa scenderebbe giù verso Albenga. C'è uno studio di fattibilità finanziato dal Cipe 11 anni fa, nessuno ci ha più interessato, tutto fermo, non c'è un'infrastruttura che si è mossa in questo territorio della Riviera, fra Savone e Imperia, si diano una svegliata. Oggi siamo isolati, c'è una forte preoccupazione da parte di tutti i sindaci, abbiamo voluto fare questa riunione prima di fronte al prefetto e poi con voi, proprio per esternalizzare questa nostra preoccupazione. Oggi la nostra provincia vive sul turismo, vive anche sul mondo di produttoria e siamo tagliati fuori, sta comportando anche delle grosse preoccupazioni, dunque il giovedì ci sarà un incontro con la Regione, da questo incontro non vogliamo arrivare con tante proposte ma con un documento condiviso dove chiediamo sicuramente quello di investire soprattutto più sull'infrastruttura, con degli atti concreti, con dei finanziamenti e soprattutto questo documento poi dovrà essere girato anche lo Stato. Ci vogliamo realizzare un incontro con il Ministro delle Infrastrutture, farlo venire tutti qua, ma in questo momento oggi quello che è emerso è unità, unità da parte di tutti i comuni della provincia per non dimenticare il nostro territorio perché siamo fortemente preoccupati. Poi c'è il discorso dell'allerta rossa che è quello di signo che presenterà alla Regione i propri danni, le proprie problematiche, ma questo è un altro discorso che è diverso da quello che è stato presentato oggi. Davanti al Prefetto io ho detto che non ho nessuna paura a fare delle azioni forti perché la mia scelta politica fatta nel passato era quella che bisognava rompere per ricostruire. Quindi siamo disposti a fare delle azioni pesanti perché non vogliamo essere dimenticati tenendo presente che questo territorio non ha mai avuto, io ricordo Manfredi quando iniziò la 28 e poi la 28 è ferma lì, con un foro a Cantarana abbiamo fatto un revival quest'istante per dire che bisognava farla però è di nuovo tutto fermo lì. Ora si tratta di capire quanto è vero il fatto che l'Europa ci può dare dei soldi e non ce li dà perché mancano le progettazioni. Secondo me è un falso, se vogliono un po' di progettazioni fino a 60-70 milioni gliele dà solo Diana Marina, quindi è già nel cassetto. Quindi evitiamo di dire che l'Europa non finanzia, le opere ci sono, si possono fare un miliardo e mezzo e più la Cantarana diciamo che due miliardi e mezzo, tre miliardi ce l'abbiamo solo con quelle due che abbiamo detto adesso. In più 7-8 miliardi per la predosa, quindi insomma di soldini ce ne sono da spendere, di progetti ce ne sono, eviti di non raccontare delle balle. Se non li hanno lo dicano, se non sono capace di andarle a prenderle lo dicano, certamente io i 30 milioni di euro di Diana li devo chiedere attraverso la regione, se lei fa da collettore, se mi dicono che non sono capace neanche di fare da collettore allora me li andrò a cercare da solo.